Benvenuti alla giornata italo-francese dei giovani ricercatori che ormai è un appuntamento annuale che dopo diversi anni causa pandemia. Eravamo quindi abituati alla modalità da remoto ma essendo anche un evento di networking come abbiamo specificato nell'invito è importante che sia anche in presenza. Grazie a tutti i dottoranti, dottori di ricerca per la partecipazione, ai nostri speakers di alto livello per aver aderito e accettato di intervenire alle tavole rotonde da noi organizzate. Chi non avesse ancora firmato la presenza per favore lo faccia perché se poi mi chiedete, ci chiedete l'attestato di partecipazione, abbiamo bisogno insomma di avere la vostra, di avere la firma, non vi conosco uno per uno. Allora vi auguro buona giornata, avrete lo spazio per fare le domande, avremo dei momenti conviviali downstairs quindi di coffee break e poi una pericena che servono proprio per facilitare maggiormente il netto. Porto i saluti che diciamo della direttrice della scuola di dottorato che non si scusa per l'assenza ed è rappresentata dalla vice direttrice della professoressa Cifarelli cui lascio la parola. Grazie, quindi porto i saluti della professoressa Eleonora Bonifacio direttrice della scuola di dottorato dell'università di Torino che non poteva essere presente per impegni presi in precedenza. Io sono una delle coordinatrici dei 37 dottorati del Complex di Torino e sono molto contenta di poter essere presente qui oggi. Ringrazio vivamente la dottoressa Salto che è sempre così attiva nell'organizzazione di questi eventi destinati a promuovere le carriere dei dottorandi. Come sapete il dottorato si è molto trasformato negli ultimi anni, non è soltanto più un percorso che porta a una carriera accademica ma molto spesso è un percorso destinato a formare degli specialisti di professioni molto particolari e quindi il dottorando è tenuto ad avere capacità non soltanto di promuovere una ricerca originale ma anche poi di sapere spendere queste competenze spesso trasversali in mercati diversi da quelli dell'accademia e questa è la ragione per cui le giornate come oggi sono particolarmente importanti. Per alcuni ambiti fare carriera fuori dall'accademia è più semplice quindi far fruttare bene, fare una brillante carriera fuori dall'accademia non è così difficile. Per altri ambiti è difficilissimo come per esempio per gli umanisti che ahimè io contribuisco a formare. Quindi a maggior ragione una giornata come oggi dove si cerca appunto di insegnare proprio questo, cioè come valorizzare al meglio le proprie capacità al di fuori dell'accademia è veramente una bella occasione. Grazie molto gli organizzatori e gli intervenuti che sono tutti appunto come ha detto la dottoressa di altissimo profilo quindi spero che possiate approfittare di quest'occasione rara e di prendere insomma i frutti che questo può rappresentare. Buon lavoro. Buon lavoro anche in francese, benvenuti in questa giornata franco-italia. Buon lavoro anche in francese, benvenuti in questa giornata franco-italia. Buon lavoro anche da l'associazione Bernard Grigori, partenare di questo evento. So PhD holders are talents and what we see recently there is a lot of challenging in front of you. In france recently, a doctorate has been recognized as a professional experience. So I really hope that also Italy will follow in such official recognition as well. Complexi, for the last, we also see that there are some challenges, maybe because of PhD candidates start not so soon to wonder what can I do next to looking for professional opportunities. That's why we come with the University of Turin and also with French Italian University at APG to organize this complex different actually you can exchange to get inspiration from your your colleagues now working in a company to receive some advice. Also from company representatives, you know, of course, allow you to exchange directly and to involve also to to create your network or expand your network as well. So this is being said, I invite you to complex actively your questions, of course, to comment and do not hesitate to approach professionals during breaks and later on during the the closing cocktail. So thank you once again for being here and let's start our journey. as you move into. You 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 you